installazioni site specific macchine da festa ed un nuovo gabinetto delle stampe mercoledì 21 dicembre all'accademia di belle arti è stata inaugurata la festa dell'arte per il 2012 il direttore giovanna cassese del presidente sergio sciarelli hanno accolto il sindaco di napoli luigi dei magistri nell'ottica della valorizzazione della produzione degli allievi dell'accademia nel giardino storico una installazione del corso di nuove tecnologie dell'arte ha illuminato le aiuole a verde dell'antico chiostro dove sono state presentate alcune macchine a metà strada tra lo spirito natalizio ed un umore noir in sintonia con il tempo della crisi nel gabinetto delle stampe moderne è stata accolta la produzione artistica della scuola di grafica d'arte allo scopo di conservare le opere prodotte dagli studenti dei corsi di incisione partendo da 600 opere selezionate negli ultimi 15 anni di attività un notevole strumento culturale non solo per la didattica ma anche per gli studiosi ed i cultori delle stampe d'arte lo spirito insomma è quello di puntare sulla qualità di una didattica innovativa che comprenda da oggi anche la valorizzazione della ricerca e della produzione delle scuole dell'accademia grazie a tutti grazie a tutti